It's a long, long time, it's a long time, definitivamente, it's a long time, desde cui mi abbrassi, edusi di Michinang, e amici di Michinang, cui abira un artista global, e è definitivamente un orgullo immenso di porrire, profilare in maniera che ti faci, e anche in maniera che la chiede, e la chiede, e mi sono ieri, con Tabata manda la canzone, per me escoci, e mi sono ieri, con Tabata llega, corso, hit me up, buzz me up, roof, mi te, mi te passa, e mi sono ieri, è un placer di aver definitivamente, por conversare con lei, e è in Ulanda, attualmente, e ieri, what day, papito? Mamita, Ruby! Midushi, è un placer, ambo. A vorrei che non, a vorrei che non, a vorrei che non l'introduzione, un poco mas largo co'n antes. Bo te compro, ne? Si, si, ambo, mi te immagina, mi te immagina, tutto lo che stai facendo, grazie a Dio, grazie a tutti, grazie a mamita, Ruby, che ho sempre a princesi, la mia fiducia e me fiducia per me, e ieri, è un stagio Posso sempre passare di, di, dobbè, manegare cantando gli civini, o che, anche she lettere non me cantando, è ogni cosa più, no? Si, 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 bra É, usciamo proprio divertirsi, belocchio, adesso penso che follower Amba. омenso l'回去, mi sto sto realmente orgoglioso di Amba, e il motivo per il quale ho avuto un quartico qui, posso dire che mi sono arrivato qui nel studio, sei con me pronto, 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 Dio mediante. Però mi sono arrivato. In luna, quando arriva, un pari di giorni passate, un cosmonstruoso è arrivato. Contami quale è la ultima città che ho visitato in un record time, in due settimane. Voi stavo in una differente caminta grabando si gumi con tre differenti artisti. Contami a chi che hai fatto. Sì, mi è passato anche un cammino, non posso inserito a Londra, non invito su Spagna, Saremo ancora dal santo domingo. Mi tengo parte del paese, mi trovo, e ayer la nocci mi acabo mandami un pleno nuovo paese, il dia 8 di mei. E ora vuoi avvicinare non mandami, quindi chi non sta papiando? Posso avrà, antes? Mi manegro. Si, si. Mi manegro, mi sto lavorando con un manager e un manegro grande, così, lascia gli andamia. Ok. Così, lo spaventola. Si, gli zono l'avvicinare. L'avvicinare. Mi sono stato vorrei andare. Oh, un paese. Unvo mixllo di intero industriale. QuantoNDATA. Mi è stato piuttosto di avere. Lo spaventare. Io stavo viaando a una pandemia. Mi non ho provato di viajanare, ma sono molto contento con il portatti che ando rappresentando e facendo lo che mi piace ma questa musica di 5.8 milioni una cimita 3.2 milioni papara con Gianluca Vacci 229 milioni di original version di Dreamgirl papita come ti senti? mamita rubi bozano è un sentimento è un sentimento incredibile ma spappando qua mi sento Bahaia e pregunte a chi for di Hopi otro locutor entrevista però mi chiede a chi va e for di ma profondo di bucura zombie mi che cosa ti senti Iri? mamita wow è per realizzare è qualcosa che 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 c'è che 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 ci che ci che questo cosa è ovvio altra cosa però attraverso di attraverso l'essere il tempo per senti analizzare e è più parte di il c'è l'amco difficile riconoscimento e mi porta rappresentando il mio idioma cambiamento cantato idioma anche tu rende il foto con riconoscere con artista un grande donando mi respeto e sempre mi respetata a me adeguare questo è qualcosa per realizzare ma io anche perchè ho raggiato papiando con il mio mento è stato dry come sei? 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 io mi non mi non sono lo u preferred non è un momento ma è stato mio mi non è sempre so mi non è normale ma magari ti senti che metti un programma di fotografge di Home�едь artista Ruf mi acaba di scrivere sa che c'è inglese per me. I mean, la cosa è che per sempre lo mi piace con il mio corazone, specialmente se ora che sei fuori di Buneiro, sti ma arriva a B6, si guarda su un'artista internazionale e, guess what, cantando proprio mento. Papito, potrei immaginare che salendo fuori di Cachè, e poi tutto quello che si guarda con l'anno, con la trilogy, con i Gio, Giobni, con gli altri, con i Gio, in gi hotels e noi siamo a Buneiro con il mio corazone. Sì, è così. Quindi noi siamo a Bune di Drake e sui Instagram. Bune di Drake e sui Instagram. Si è certo, è già stai. un'espoio non mi dobbiamo e sta quando mi non pensavo non mi dobbiamo non sa mai un cos'imitore contento come sa di mantenere l'opin tranquillo l'opin neutral l'opin chill per non perdere un'espoio e come da a sce come la perché non ci sono un'espoio 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 non ci sono è un'espoio 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 si come si si è facile è facile un'espoio 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 che mi ha disegnato un po' diverso, anche se non sono piccoli, ma quando mi ha disegnato in una isla, non sono piccoli, non sono piccoli, ma non sono piccoli, ma non sono piccoli, ma non sono piccoli, quindi mi hanno dato un po' altra persona, perché ogni giorno hanno un género grande, mondiale, sempre non si guarda un Prince Royce, un Ozuna, un Muti Gem. Amo, ti fanatico di Romeo Santos? Amo, ti fanatico di Romeo? Mi sa? Sì, è il mio numero uno artiste, ti amo, è il mio artista, fanatico di Drake, senza grado, mi sono piccoli, dei miei DMs, ho contattato con noi, ho appoggiato la mia musica. Iri, la garrufa senti qui c'è? Wow! Con chi è più in contacto? Con chi è più in contacto? Mi ha sentito che c'è? Voi amare un'utile di più in quei? Con chi è più in contacto? Nel mio amore, ho appoggiato un contatto, ho appoggiato la mia musica qui, ho appoggiato la mia musica, 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 la produzione con cumbia su un tuo meno tra un sanno nuovo qualche qualche parte ma grava con root boys produzione l'antico binga innairi turista sono preso resta sono preso resta sono next quando vai bim quando sto preparando la buoneiro di final di mei e se riuscita vai tena buoneiro si ma l'ho greco sei iri wow impressionante si è stato grande è stato grande è stato grande con la buona qui poi è la buoneiro ma come si è venuto a un'altra parte della compagnia si 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 il sogno un sogno real che sono più ma io non come a party l'antimi islami sa da me the soon a one key of non come a minus the non come up is a young artista non di islamo so what ababa lo da me wow it is so come come a parecia o sample massimo cosri bobi tranquille che tu, però si di apoiarmi nella mia isla, quindi non si non è sempre come una buona ero. Algo, e le, passo a Ruf, non ho capito per il tempo, mi sa che mi ti dono il respeto come artista. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. No, passo a Ruf, mi ti vai tenendo una buona promessa, pavote, sei con me, un dia e dia non è qui, mi ti chiede, mi ti trovo party, pavote. Like for real, o sea? Eri, ti senti che buonei, sei conciente di magnitud di cose che ti 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 faccio? E che ti ti faccio ancora per la mia isla natale? No, o sea Rufat, mi ti senti che buonei, mi ti senti che buonei, è molto più facile, non mi senti che non mi senti nello di isla, è solo per me. Passo di 21 anni con chi è passato a Cina, a un bel suore, però muovendo un idioma che non passano 6 milioni di persone ascoltando il papiamento, come è arrivato a Tiktok, che cantano il papiamento, e non è passato. Quindi, per me realizzare, per me islamo, per me. E spera di verrà, che pronto per realizzare il video? Sì, sì. E' un po' di… E' un po' di… E' un po' di… E' un po' di… Ora mi pensa, mi riponei un bell board, mi riponei Kiko, mi riponei un bell board, mi riponei un portretto nel aeroporto. E ora mi riponei un bell board, mi riponei un portretto, e ora mi riponei un artista qui, wow! è in roba libera di un po' di sol, ecce in casa Calle come sai e ora mi riponei un po' di soli si Tutte giù un piede un po' di soli è un po' di soli. anche sono cose che passano anche internazionalmente, quando mi abbracano, mi puoi, mi abbracano, mi abbracano, mi abbracano molto più, mi noto, mi abbracano. Però è amore, è un amore di casa, è un amore di casa. È infinito, è infinito. È infinito, è infinito. Perいましたi. Anche non mi senti, non mi senti, in un tempo, ma mi senti un tempo, cosaosa per me spessi. Poi pensi, a mia dire che tipo di cosa ho, se fosse un sacco per me. Il momento non si viene, non mi senti, non me senti, non mi libro, non mi isla, non mi senti, non mi senti. E non mi senti, non ho so, è una persona, mi senti in un seguito, mi gente è natura la roba mi sonico da me casco da un bucato sinta del mio sofà mi sofà bonita e pota pota espresando con maduré inmenso e ai vota mira con la mente e pensamento a desenvolver a desarrollar di una maniera fantastico ando mi ti chiede che il cambio di pensamento che abbiamo fatto per dire che è il giorno e che è il giorno che non è per sopra per madurare e abbiamo fatto tanto che venendo per avuto there's so much going on and so much that is still ready to come per avuto bota papia hollandese bota papia spagnolo bota papia papiamento bota papia ingles quattro idioma bota papia quattro idioma haci un'entrevista den quattro idioma ma tu anote di alcun'entrevista di buona spagnolo otro nana ingles e mi tini bisa bota haci cos'nang realmente fantastico Luna acaba di sali quanto dia ha passato un pari rato passa come mi gusta e piensa no masha great masha masha great awesome awesome un'artista increible tambi un vibra come sa você conoscete diferente outro vibra no sobe mexico me conoscete gran parte un'ciudate increible grande se nosa super buona metatana melico ma neun sette dia nosa chieda quando fa nosa grabbe video studio session con artista americano manera mario non so ti mario tambi con un'artista grande in americo stiamo vieno tambi mi cantica non grabar con con assino tanto artista roberto o tambi artista munger leiser munger licha tem de guim munger maio rufto vai puntram altro unco ta caveta mi kia si mi ti segura un an mese in wavo keman por donami dale dale si mi tendi si mi in k ir 6 mi wank bo 625 mil subscribers nei e coita bomba mas o menos entre 3000 pa 40 mil dollar pa luna riba youtube e coita verdad ci bisame si of no duna di bu youtube so pa sobra k k explica i rima nera bomba sa epandemia apone musico nang local botan betaba un dinan prome bo a queda internacionaliza globaliza en botan betaba ta junto co nostur aqui vo sa ir pero pandemi asi yes pandemi asi ko hobi musico awoke ta puxa arriba digitalizacion dinan musica ora ko mi asi mi research mi tehinkede dinan anjan bo piasa nang actualmente ta bom pa entre 2000.5 ka i 39.6 ka somewhere in between tapese mi di is it true ta verdad e kose tapo nos hende nang y nos músico nang sa kuna mister sigi straf arnar of leo maikui no no sigur sigur mira lo kya pasak kua e plataforma na mas plataforma na mas mas bien mamma mi yong paga ta spotify kua apple music youtube tambe paga siguro buting spotify kua music kua indizel musik spotify nang nang ta upi mas mas buta mas adelante mas delante po youtube si and so kong kua youtube ba bom youtube tambien super però voti in voti un altro formato a metà paga maniera a voti di questa paga in istagrante questa paga vengono con un retture plattaforma la lì di media cambiettemi parlare se vuoi dire sempre video l'antà vita vengono ma il tuo esempio no facebook piatta pagando io sono andato 30 però a troveri voi mi tengo un break mi esposo mi tengo tantas preguntas però mi quedo qui non ora che voi qui non ando in mio studio mi tengo non ti mangiare 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 si 10 giorni non ti mangiare ora mi viene chiedere non ti mangiare entende papito un ultimo pregunta quale è il prossimo regalo che vai dunque dopo mes dopo di attraggare assina duro fino alla pandemia 5 o 6 videoclips 5 o 6 piezas un nuovo quale è il prossimo regalo spill the beans Bissam Ruf mi cas mi cas mi cas mi cas mi cas mi cas buoneiro ulama buoneiro non è un bel nome Bissami no mi sto traendo na rato na rato oh fantástico fantástico mi due si si è il prossimo regalo fantastico iri mi te che dependiente mi cas mi cas mi cas mi cas mi cas mi cas guarda Buss Ruf whats mi no si ma qui va una iri e non sei sumamente orgulloso d'ivo ma c'è d'an che sai Grazie Dushi, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie Dushi, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eri Sais, direttamente fuori di Olanda. È un piacere, è un piacere. Mi spero che vai a divertire. Grazie a tutti, grazie a tutti. Mi è totalmente impressionante. Lo che puoi ascoltare, la luna, la tua ultima song, è la che deve lanciare il 28 di Aprile. Ma che dà, ti hanno un'altra opportunità. Eri Sais!